Dopo l'attivazione dell'Istituto Clinico di Casalpalocco, ora anche il Grassi di Ostia diventa ospedale Covid-19 Spock. Si sta attrezzando il piano terra del nosocomio per attivare ulteriori 25 posti letto dedicati, di cui 8 in terapia intensiva, ha dichiarato l'assessore regionale alla sanità Alessio D'Amato. Sulla questione è intervenuta la consigliera del decimo municipio, Monica Picca. Chiediamo con forza che vengano tutelati tutti gli operatori e commentati, garantendo il corretto e pontuale flusso dei dispositivi di protezione personale. Vigileremo sulla situazione affinché sia assicurata anche la salute dei cittadini, ha concluso Picca. Intanto, sulla stessa linea del consigliere Pierfrancesco Marchesi, sinistra italiana chiede che l'ex oratorio Santomaso dell'Infernetto diventi un presidio sanitario. Il Grassi, si legge in una nota, non è in grado di far fronte alla crescente domanda di assistenza. Oggi, in piena emergenza, è evidente la necessità di istituire presidi sanitari pubblici nei quartieri più densamente abitati.